Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zipnews Sport. Pechino 2022, Moioli fuori dalla finale di Snowboard Cross, la portabandiera azzurra chiude terza nella sua semifinale, oro all'americana Jaco Bellis, Brignone fuori nello slalom, oro a Vlova, argento all'austriaca Linsberger, bronzo alla Svizzera, Oldener nello slittino, doppietta tedesca nel doppio, azzurri sesti. E poi le parole di Goggia che dice sto schiacciando continua il recupero della campionessa azzurra che si è allenata con gli sci da Super G. Era l'ultima notizia, grazie per averci ascoltato, parte tecnica curata da Rosario Perez.